Suor Genevieve Suor Genevieve era una vera mammina per il piccolo e credo che in fondo al cuore lo considerasse un po' suo. Allora riflettevo sulla scelta coraggiosa che molte missionarie fanno ma che a volte, per l'emergere di un istinto naturale come quello materno, può portarle a vivere momenti di grande difficoltà, rappresentando un'ennesima prova nella loro già difficile scelta di vita. Nota 132 Prova La nostra religione chiama prove le esperienze dolorose cui si è chiamati. I maestri invece le chiamano eventi vibratori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.